In festa a Lido di Campomarino i condomini Delta, Irone e Gardenia, socializzazione e gastronomia a costo zero per il terzo anno consecutivo a due passi dal mare. Una serata in allegria che ha visto coinvolte oltre 350 persone, tutti i turisti che in agosto preferiscono la località adriatica del Molise. È la terza edizione. Ogni anno abbiamo dato un tema. Il tema di quest'anno è l'incontro con i giovani. Quindi i meno giovani cercano il dialogo con i giovani. Essendo turisti in questa zona cerchiamo di incontrare prima le persone che vengono a villeggiare e cerchiamo di dialogare per conoscerci. Dopodiché cominciamo a dialogare con i giovani per vedere più o meno quali sono le loro idee in merito alla gestione dei condomini proprio per ottenere comprensione verso la calma pomeridiana e serale perché in queste aree d'estate si vive e non si dorme come suol dirsi proprio per queste turbulenze giovanili. Giovani non si sono dati appuntamento tra musica, balli e piatti culinari all'insegna delle ricette tipiche della penisola. Abbiamo sezionato il condominio che doveva provare i primi, il condominio che doveva preparare i secondi, il condominio che doveva preparare i dolci e così andando avanti, poi abbiamo allestito tutto e tranquillamente lo abbiamo consumato.